Che fare? E dai, quando ti ricavi dall'occasione del genio? C'è pure il mixer. Dai, dove stanno le pacchette? Bravo, Sebastian ha la batteria. Vai! On the drums, Sebastian. Sebastian ha la batteria. On guitar. On guitar and vocals, Ruben. Vai, te la cucino un po'. Sebastian Bach, scritto il bellissimo. E beh, è una bellezza, quello lì, sconcertante a dire poco. Lui è di una bellezza sconcertante, ma è venuto da Sebastian che scritto Sebastian Bach. Che è sparito, questo c'è il morto. Eh, non ti sa che fino a 9. Mi pare che l'hanno scolto, due anni fa, ho visto un video che, vabbè, lui è molto più grande, però ho detto, ah, vedi, non era morto. Ma non gli dà, se gli piace così. Sì, sì. Sì, sì, lui è il numero uno. Cioè, di una bellezza, quel tipo, porca loca. Quella è proprio la bellezza, quella da soprammobile, capito? Quella che dico, capito? Quando noi guardiamo le stagioni. Eh beh, ecco. Quella che tu resti là così. Ecco, vedi, questo è quello che ha fatto per me. Tu direi che è questo, Giornatano Islè. È una bellezza. È una bellezza. Oh, forse a me che vuole perdere, ma questo è quello che è questo. Ah, mamma mia, ah, mamma mia, ah, mamma mia. Bravo! Bravi! Bravo! No, 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 no. No, 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 no. Nel giorno per noi, che su serenghadi, e sarò io a vincere. Le gambe non stanno in piedi, le devo convincere. Mia per farcela con la nostra grande strategia. bravi ok bravi bravissimi 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 la ricetta è finita